L'amministrazione comunale di Colle d'Ara lancia la campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro l'abbandone dei rifiuti nei fossati e lunghi corsi d'acqua all'insegna dello slogan Proteggiamo l'ambiente. Nei prossimi giorni saranno posizionati in tutto una decina di cartelli in diversi punti sensibili del territorio, oltre a diversi manifesti che saranno fissi per tutta Colle d'Ara al fine di rendere più curato e sicuro l'ambiente rurale. Questo è un ulteriore step che è partito già nel 2014 con l'introduzione della raccolta differenziata che abbiamo fatto in otto mesi subito dopo esserci insediati. Adesso uno step successivo è rappresentato proprio da questa campagna che stiamo portando avanti proprio in questi giorni e che soprattutto si rivolge alla sensibilità della gente perché stiamo notando che la raccolta va benissimo, siamo stati premiati anche nel 2018 come comune riciclone, però notiamo che comunque in alcune zone soprattutto della nostra comunità c'è questa usanza bruttissima di buttare il materiale nei fossi, a bordo strada soprattutto, nelle campagne dove c'è un po' meno controllo. Abbiamo anche acquistato delle fototrappole che utilizziamo nel territorio per capire un attimino chi è che commette questi reati e abbiamo adesso con questa campagna di sensibilizzazione porteremo avanti anche un regolamento di polizia rurale in modo che oltre al discorso dei rifiuti potremo insieme agli agricoltori cominciare a fare un ragionamento oppure per un attimino la reggimentazione idrica dei terreni che spesso porta a tutti quei problemi di dissesti che abbiamo visto in questi anni.